19 luglio, dopo l'elezione di Enrico De Nicola a capo provvisorio dello Stato, si procede alla nomina della Commissione per la Costituzione. È la cosiddetta Commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini. Tre sottocommissioni, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica, lineamenti economici e sociali. Della prima sottocommissione fa parte anche il giovane Aldo Moro, che ricorda il clima di quella stagione.